Il Comune di Torre del Greco, l'assessorato alla pubblica istruzione e le scuole del territorio comunale, promuoveranno a giovedì 27 maggio, a partire dalle ore 10, una giornata di sensibilizzazione contro l'abbandono indiscriminato ed ingiustificato dei rifiuti in punti non autorizzati della città. Un flash mob per dire no al sacchetto selvaggio e al contempo per sensibilizzare l'intera cittadinanza su un tema di particolare interesse sociale. Dai bambini e dalla scuola riceviamo quotidianamente delle lezioni importanti, quindi il mio veramente è un ringraziamento al mondo della scuola tutto che ha deciso di sobbarcarsi un problema che è di tutti. Domani sarà una giornata di festa, una giornata di mobilitazione dove tutti gli istituti della città hanno confermato la loro partecipazione e la loro adesione. Avremo dei momenti particolarmente significativi sia al centro che in periferia. Avremo delle manifestazioni come quella di un istituto in via Vittorio Veneto, avremo delle giornate di studio sulla legalità e sull'ambiente, avremo dell'esposizione di cartelloni e striscioni al di fuori degli istituti scolastici. Avremo chi, in ricordo dell'appena scomparso Battiato, sulle note di quelle di Battiato esporrà quelle che sono state le indicazioni significative del maestro. Una giornata veramente di festa che vuole richiamare e sensibilizzare la cittadinanza tutta sul rispetto e sulle regole dello sversamento corretto dei rifiuti. Quante scuole quindi hanno aderito a questo progetto? Dal centro alla periferia. Chiedo scusa se non riesco a citarli tutti, ma l'ho fatto veramente per dire che nessuna scuola si è chiamata fuori. Ripeto, una battaglia che è di tutti. Il problema dei rifiuti purtroppo in questa città è un problema cronico e storico. Quindi sono anni che questa città si confronta con questa emergenza. Evidentemente qualcosa deve essere cambiato e per poter cambiare abbiamo bisogno che ci sia la partecipazione di tutti i cittadini. Parliamo anche degli studenti, quelli che dovranno recepire questi messaggi. Come stanno rispondendo? Alla grande. Io ho una particolare sensibilità nei confronti dei ragazzi perché immagino che almeno dal mio punto di vista i ragazzi sono stati quelli che hanno sempre offerto la loro collaborazione. Sono portatori sani di valori. Le idee più belle le vedrete domani, non le voglio anticipare, ma sono semplicemente frutto della voglia e della volontà dei ragazzi di volere una città migliore. Un evento importante anche per il mondo della scuola che finalmente è ripartito e che quindi può vedere una boccata d'aria in un evento ad ampio raggio come questo? La scuola è ripartita, è stato un anno difficile per i ragazzi, per i dirigenti scolastici. Abbiamo cercato in tutti i modi di far sentire la vicinanza delle istituzioni. Ci sono ancora tanti problemi legati al distanziamento, agli spazi che ancora parecchie scuole lamentano. Noi lavoriamo insieme, lavoriamo in sinergia perché il prossimo anno vogliamo veramente che sia un anno importante di rilancio della scuola di Torre del Greco.